Allora, allora, come state? Innanzitutto, qua regà, vabbè, avevo fatto il video di 11 secondi, ma io ve lo ripeto, qui sotto in descrizione c'è il link del podcast di Spotify, quindi andiamo a fare big riproduzione, e niente, sono appena tornato a casa, più o meno, e quindi, yet, fatelo.